secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie che è io 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 maurizio sottolinea di due mesi ciao maurizio buongiorno signor maurizio grazie dei due buongiorno a lei buongiorno a lei grazie dei due maurizio lol grazie anche a leonardo tania dantex e da ma che pompa ma stava stava picconando sì ragazzi quest'anno sono il games week sabato e domenica sabato 26 domenica 27 ho visto ieri degli dei gameplay di modern warfare 2 figa sembrano veri c'è mica anche amsterdam giusto mi parla di sì minchia ho visto degli se nello storia mamma mia raga mamma mia che grafica raga sembra veramente di vedere un film se fosse stato possibile farla anche in coop gliela avrei buttato degli all'ernesto per le mattine poteva avere un senso no fa paura la grafica non mi replessi coglione abito a milano idiota efficiente statemi qua che c'è il loot abbiamo la scheda di nez si si va ad arrestare ad arrestare la scheda la prendo io easy arrivo arrivo effetti altri otto secondi e non lo sento possiamo prendere la scheda come si dice sostituiti tagli zombie ciao paupin buongiorno xyuder può salutare la 1 big aspa edo fede jacopo ernesto morgana nicolai fede giulio mor saluto la prima big aspa edo fede jacopo ernesto morgana nicolai fede giulio mor ciao ragazzi corvi cinghiali rane corvi cinghiali rane dalla pompata io muoio buco cercavo di fare il sport maver cazzo in faccia brutta merda a non lo fare perché tra strappo con la faccia di merda sacca diavolo andiamo? si 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 vai il giorno build oh yo 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 rock 32 ciao rock aiaia 32 mi dia un secondo rock mi dia un secondo c'è un patetine spirit sottolinea naturale punto su di lei no spirit non dica queste cose che mi mette la paranoia merda rockinson quanti mesi sono merda sono veramente tantissimi vado 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 e salve oddio 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 stavo a vedere tra lo schermo che si è ragazzi si è alzato dalla sedia per prendermi la gialla porco dia si è alzato dalla sedia disingaggiate in maniera incredibile e di lei è morto se non disingaggia la live sta laggando dalla vita che si comunque a chi è morto? lei non ha capito che sono ah in vivo la mia live lagga? sì che sono morto sì ma da un bel po' non so perché ne sono io di ma secondo me questa cosa accade prevalentemente perché siamo nuovi video di quel gioco una volta che ti abiti stai a giocare a meno che non vai lì ma si può buildare qualcosa dici se dovesse prendere pietre io lo porterei mi ha fatto ma percadiazze no ronironironironironironironironiron non lo posso ma che cazzo faccio ok me la prendo io ho 34 col pr io ne ho 80 andiamo a prendere un refresh Andiamo andiamo Che ora ci faranno tipo troppa paura Sì 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 Invece noi a cavolo Cazzo duro li inculiamo tutti Ma dai 350 punti E ci possiamo riportare Mi volano cose davanti E' da fastidio E' un po' sì Ma perché cos'è E lo so cos'è E' una roba grande Per favore Per favore Stasera sono con il live Sì sì Raga è una roba che Hai capito se hai parlato di piloti di Formula 1 O di calciatori Ibraimovic Mamma mia Vabbè Del Piero gioca ancora in squadra tipo straniera Se non erro E' tipo vecchio ma gioca E anche negli giocatori Ne mancano cinque Ne mancano Del Piero non gioca Oggi la live Vi mando ovviamente Una buona continuazione Un buon pomeriggio Noi ci rivediamo Sempre qui Domani mattina Alle otto e mezza E attenzione perché domani poi Nel primo pomeriggio Avremo la squad In no build Per quello che riguarda La cash cap Buona continuazione a tutti ragazzi E buona serata Ciao In chi è arrivata in faccia la pietra L'ho visto No mi è arrivata in faccia la pietra Ho cercato di prendere La bolla scudo Ho cercato di tirarla Nel momento in cui la stavo tirando E' arrivata In cinci Sì sì ma io sono cil Altrimenti bestemmia Gesù Cristo Le spiego brevemente la faccenda Paypal quando entrano soldi sul conto Tramite le opzioni beni e servizi Di cosa Perché è pesantissima questa immagine Tutte le novità Della patch È assurdo Lo loro Le gomme no Parte della ciurma Parte della nave Sì partito dal lodo a pc anche per me Sì 3,38 giga Raga è una manata Ciao lego Benvenuto È una manata Allora andiamo avanti a vedere intanto le cose Di cui stavamo parlando poco fa Non c'è senso È un'altra È un'altra quella È un'altra mi devi coprire Dammi la vita per coprire Ti copro io Ti copro io Vai 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 Ti copri sopra Non c'è nessuno Nessuno ti sta cagando Uno arriva qua Lo mando indietro Lo mando indietro 42 28 28 28 27 ancora Che pazzo È un pazzo Po po porco il cazzo È un pazzo Cazzo va Quelli erano nascosti Non li potevo vedere Erano sotto il tetto Stai lì Stai lì Dai che muore Crack 1 1 2 Bravissimi ragazzi Bravissimi Easy Vai fuori fuori Dove sono gli altri Sono bagato Sono bagato Sono bagato Non ci credo Ok mi sono sbagato Lo vedo Andiamo a prenderli È una triuntera Non devo arrivarci vivo Non riesco ad arrivarci vivo Posso farcelo Ok Ok bunker Oh cazzo Ok Calma Bravo Bravo Ciao Ciao Oh mio Dio Let's go Nice Merda Tenuta bene Tenuta bene Tenuta benissimo Merda pericolosa questa Però È tutto merito mio Merda Grazie per aver acquistato il cd Carlo Grazie mille Carlo Grazie mille E 1500 V-Bucks Miche Io E sono 18 18 mesi Io Xuderone E sono 18 Provo Potrebbe Salutare la Gisa Salve Gisa Mi mancava ragazzi Si